Grazie a tutti. Ed ecco la realizzazione dei taglieri, il metodo artigianale antichissimo, soltanto marmora. Il nostro artigiano è Renzoliori di tonalata. Perciò vedere alcuni suoi lavori che sono pochi. Ecco, questi sono i suoi capolavori. Ehi nonno che ha fatto un filmato con questo signore. Ehi non si può fare. Però non scudo da quando giravo. No, è un po' chissà. E' un po' di giudizio. E' un po' di giudizio. E' un po' di giudizio. Buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie. Ciao Renzo. E' un po' di giudizio. E' un po' di giudizio. E' un po' di giudizio. Condensano. E' un po' di giudizio. E' un po' di giudizio. E' un po' di giudizio. No, non ti asserirei, questa parte è la città, è la città, è la città, è la città e la città sulla città. Scusate, scusate. Il culo è il sacchettino, è uno da un'altra parte. No, ma sta abbassata per te, da voi. Ci sono tanti scussi, ma lo sono stati per un'altra. E sopra c'è altro, ma non so, non c'è un'altra coppia. Ecco il culo dell'alutino. Abbiamo dato un po' per ieri. E quindi il culo è il culo con la sua organizzazione. E' il culo di Ritorio. Il culo, il culo è il culo di Ritorio. Il culo è il culo di Ritorio. La città è il culo di Ritorio. Il culo di Tocchi non può essere, il culo di Ritorio. Non è che città, non è che la città. E la città è la città, non è che la città. Grazie.